Oggi siamo molto contenti che AES sia qui per la sessione della settimana della bioarchitettura e sostenibilità in collaborazione con il Castello di Libri. Abbiamo sul palco Luca Lombroso ed è una bellissima occasione per coinvolgere le classi delle scuole superiori su un tema fondamentale, imprescindibile, che è quello dei cambiamenti climatici. Il titolo del libro che presenta Luca agli studenti oggi, che è Ciao fossili, è emblematico e ci dà un po' di scossa rispetto a quello che è un destino scritto se non si agisce. Come comune di Mirandola la collaborazione con AES è storica. L'agenzia ha sempre aiutato l'amministrazione su progetti specifici e in particolare dal terremoto in poi anche su progetti che vedono la riqualificazione di importanti immobili del patrimonio comunale sia nel rispetto della loro natura storica che rispetto a elementi di efficientamento energetico che questi edifici, rispetto alle difficoltà che questi edifici incontrano. Personalmente per le deleghe che seguo credo che incontri come questi siano importanti anche per far capire agli studenti come la pianificazione urbanistica o la regolamentazione della disciplina edilizia all'interno di un'amministrazione locale possano fare la differenza, possono contribuire in particolare sul consumo di suolo, sul monitoraggio e il miglioramento della qualità dell'aria. Ci troviamo infatti in una zona geografica, quella del bacino padano, che ha parametri di qualità dell'aria che sono in continuo peggioramento e quindi le scelte che siamo chiamate a fare devono essere anche volte a oltre che prendere coscienza di questo intervenire rapidamente. Siamo reduci dalla giornata dell'albero di ieri che è un momento simbolico ma che deve riportare alta l'attenzione sull'importanza che ha anche una strategia del verde. Noi la chiamiamo strategia del verde urbano che ovviamente non è la soluzione ma può contribuire, come diceva Lombroso poco fa, in parte la soluzione. Si tratta di combinare tanti elementi e tenere insieme tanti elementi che come risultato complessivo hanno effettivamente quello di migliorare le condizioni dell'aria a livello locale ma soprattutto a livello di comportamenti e scelte per quello che sarà il cambiamento globale.